Ciao a tutti ragazzi, come potete vedere oggi siamo sulla beta di Battlefield 4 e stiamo facendo un bel domini. Io ho avuto accesso alla beta perché sono un giocatore premium e quindi posso accedere già da oggi. In teoria si può accedere dalla beta da domani. No scusate ho fatto una stronzata, una grossissima stronzata. Si può accedere alla beta dal 4 di ottobre. Oh che puttana! Qua bisogna vedere se è tutto basato anche su questo, su connessione. Allora, come possiamo vedere graficamente non è sto granché, però bisogna calcolare anche che è una beta. Non bisogna aspettarsi tantissimo, è una beta. Sperando che non ci sia tantissimo lato, perché come che sia, è sempre una beta. Allora, in teoria non ci dovrebbe essere, non ci dovrebbe essere, perché appunto inizia dal 4 ottobre, noi siamo in anticipo di qualche giorno, essendo premio. Voi, ci era qualcosa che mi sparava, non credo cosa, però, quindi... Avete visto la figata che adesso, dopo che vi ammazzano, voi potete vedere dove sono collocati i munici. non si possono più imboscare più di tanto che come abbiamo visto appena mi ammazzano mi fa indicare proprio il punto preciso dove è il nemico e quindi possiamo andare a recuperare con questo conquista ragazzi ci incartiamo da qualche parte assistenza si vabbè io ti ho sparato per primo e io muoio per primo giusto gioco di merda cazzo i giochi qua è quello che io non ho mai capito di butterfly che non dice tu ammazzi tu sbagli per te e via che ti ammazzi voglio coltellare uno di un telo nooo non c'è mai sbucato in faccia così vabbè sono anche un po' stronzo io perché l'avevo visto ma non ho fatto nulla dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai che siamo gasati su Battlefield 4 signori giusto Battlefield 4 un altro gioco di merda giustamente io se guardate dov'è guardate dov'è bella bella mi piace sta cosa che hanno messo che puoi beccare dove sono i nemici al volo io non sai dove si campano queste merda io devo morire io morirò me lo sento che morirò per un pezzo di nuovo due centimetri di merda io non si scala ma dove sono ste merda sto porco comunque non c'è male mamma che cosa gli ho fatto la fatality gli ho fatto a questo avete visto ah minchia ma lui ha reagito può anche evitare forse il colpo non so non so ragazzi è la prima partita che faccio e sto vedendo che fu lì non è morto ha avuto quell'attimo che ha detto non mi vai non mi puoi accoltellare però io non si stima c'è eh vabbè vabbè erano i due erano i due cioè non mi piglia uno non mi piglia l'altro ah ma c'ha nulla ah ma cazzo cazzo c'ha nulla ah è finita bene ragazzi questa è finita eh beta di battlefield 4 spero il video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima ragazzuoli ciao ciao